La staffetta per la pace attraverserà tutta l'Italia passando anche in Umbria. Non è una staffetta semplicemente per la pace, ma è per dire no all'invio delle armi. È così che pensiamo di fermare la guerra. Certamente. Io penso che oggi il punto cruciale è quello di togliere la benzina alla guerra, la guerra che produce sempre di più morte e distruzione. Fortunatamente qualcosa si è mosso, certo grazie anche alla Cina che ha avanzato una proposta rispetto alla quale molti europei, da Macron all'Unione Europea, sono andati a Pechino a discuterne. Ma ancora è poco, ancora è troppo poco, nonostante che Papa Francesco ha detto che la diplomazia vaticana si sta muovendo. Però occorre più forza da parte della popolazione, occorre che ci facciamo sentire, perché siamo la maggioranza di chi ritiene che occorre fermare la guerra, che occorre per prima cosa impedire che l'Europa si dissangui per armare l'Ucraina, perché occorre non un'offensiva militare, ma un'offensiva diplomatica per fermare la guerra, perché si arrivi a una conferenza internazionale per la sicurezza di tutti i popoli e di tutti gli stati. Per questo domenica 7 maggio è stata indetta, per chi vuole e per chi pensa che sia opportuno e necessario, una staffetta dell'umanità. Una staffetta dell'umanità che è lunga 4.000 km in tutta Italia, che appunto con queste parole d'ordine, stoppa la guerra, stoppa l'invio delle armi, marcerà. Marcerà, 4.000 km divisi per ispezioni da un chilometro. Io parteciperò a quello delle ore 12, via San Galigano e via Cortonese a Perugia. Con la bandiera arcobaleno io e altri marceremo e daremo il cambio a altri che da quel punto proseguiranno. Occorre dare voce, dare la possibilità di contare, di pesarsi a tutti coloro che sono contro la guerra e contro l'invio delle armi. Domenica 7 maggio, staffetta della pace, ore 12.